Appena istituito il tavolo di crisi regionale per l'agricoltura, a seguito delle proteste del comparto che hanno invaso Modica e a seguire Ragusa, registra i primi no. In attesa del confronto del 6 febbraio, Giovanni Arato, referente e portavoce del presidio della città di Modica, che sottolinea come gli agricoltori e i consumatori sono stati traditi dalle istituzioni regionali, dal governo centrale e dalla comunità europea. Non è ammissibile tornare ad interloquire con chi ha già tradito in passato e continua a ricattare gli agricoltori. Per questo motivo, prosegue Arato, memori delle esperienze passate riteniamo vano e addirittura deleterio incontrare e sedersi al tavolo di chi avrebbe dovuto tutelarci e invece ha preferito venderci. Il principio è che non si può tenere in considerazione alcun tipo di interlocuzione, conclude Arato, con gli esponenti politici regionali e con i rappresentanti istituzionali a qualunque livello, nonché dei sindacati e di chiunque ha appetiti politici e necessità di visibilità. Vedremo se tale posizione sarà comune a tutti i presidi attivi in provincia di Ragusa, compresi quelli del Capologo e di Vittoria, e se a fronte di questo proseguirà accanto alla protesta l'attività di interlocuzione con le istituzioni per risposte immediate, prima della distruzione totale temuta dell'intero comparto.